Un bacio sotto il cielo stellato di Campobasso per rivivere la storia d'amore di Fonso e Delicata. Anche quest'anno torna l'appuntamento con Campobasso e Lobb, l'evento promosso e organizzato dall'Associazione Procrociati Trinitari per le rivocazioni storiche molisane per festeggiare San Valentino. Il momento più emozionante è previsto alle 19 in piazza Gabriele Pepe con il flash mob del bacio di tutti gli innamorati che vorranno partecipare. Nel corso della serata sarà raccontata la storia d'amore tra i due giovani amanti di Campobasso e a seguire uno spettacolo di animazione. Il percorso che porta al bacio di lunedì prevede anche un annullo filatelico, un gioco di orientamento nel borgo antico della città e due concorsi che caratterizzano l'evento, il selfie contest e le vetrine in Lobb. Per partecipare al primo occorre inviare una foto che abbia come tema l'amore in tutte le sue sfumature. Le foto saranno valutate in base al numero di mi piace ottenuti sulla pagina Facebook dell'Associazione, oltre che da una giuria competente. In palio per i vincitori un servizio fotografico in abiti rinascimentali oppure un pacchetto benessere. I commercianti invece potranno allestire le vetrine dei loro negozi ispirandosi all'amore. È necessario mantenere le vetrine fino al giorno di San Valentino. È possibile prendere visione dei regolamenti completi sulla pagina Facebook dell'Associazione Procrociati e Trinitari.